Non è ancora il caso di dire addio alle mascherine ma da domenica 1 maggio sarà possibile farne a meno in certi luoghi con l'ordinanza del ministro della salute Speranza Varataieri l'ufficialità rispetto alle indiscrezioni sull'allentamento delle misure anti-covid di cui ci eravamo occupati in un servizio andato in onda nei giorni scorsi. Tra due giorni dunque cade l'obbligo di indossare il fin qui immancabile presidio anticontagio per accedere a ristoranti, negozi, bar, supermercati, stadi e spettacoli all'aperto. Stesso discorso per i luoghi di lavoro fermarestando la possibilità per le aziende di richiedere ai dipendenti il mantenimento delle regole fin qui in vigore. Dalla stessa data addio anche al Green Pass. Il QR Code andrà in pensione ma non negli ospedali e nelle strutture sanitarie e non per chi arriva in Italia. A proposito di viaggi, abolito il PLF, Passenger Locator Form, il modulo che in questi due anni di emergenza andava compilato per viaggiare all'estero e per rientrare in Italia. Ma le mascherine rimangono invece obbligatorie fino al 15 di giugno citando l'ordinanza per scuole, trasporti a lunga percorrenza e locale, RSA, cinema, teatri e palazzetti dello sport. La mascherina è inoltre fortemente raccomandata in quelle situazioni in cui non è possibile mantenere il distanziamento sociale. Insomma la regola di fondo a cui attenersi, sempre valida peraltro, quella del buonsenso e noi stamani abbiamo chiesto ad alcuni cittadini di Sernia un'opinione sul quasi addio alle mascherine. Secondo me va bene, sono molte persone che non sono vaccinate, io sicuramente la mascherina la uso sempre. Beh io il Green Pass, poi pure per farne almeno però sempre paura c'ho. Io sono favorevole all'eliminazione, al chiuso può essere conveniente ma deve essere lasciata alla libera interpressione del soggetto interessato, non ci vogliono in posizione, se uno ritiene di doverlo mettere lo mette. I casi sono in un momento quindi non abbiamo risolto granché. Speriamo che le cose si aggiustano, speriamo per tutti che qualcosa migliori, anche perché prima o poi dobbiamo tornare alla normalità o no? Per quanto riguarda i mezzi pubblici e l'ospedale sono favorevole, poi all'aperto bisogna andare liberi perché comunque con attenzione però... Per l'obbligo del Green Pass sono d'accordo, per la mascherina no, perché comunque i contagi stanno aumentando e secondo me ci vuole prevenzione. Insomma l'opinione prevalente, che certo non può stupire, è ispirata alla prudenza, l'auspicio quando arriverà il momento che l'addio alle mascherine sia completo e soprattutto definitivo.